Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Crona che commenti la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Nelle ultime sedute, prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva, i temi finanziari, gli atti finanziari sono stati al centro della discussione a Palazzo del Pegaso. Prima di iniziare sentiamo gli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Variazione di bilancio 2021-2023, approvato il rendiconto generale, suppletive per il Collegio di Siena. Un'aula interamente dedicata agli atti economici. È stato infatti il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani ad illustrare l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFRA 2021 e la prima variazione di bilancio 2021-2023, con gli interventi normativi ad esso collegati. In tempi molto rapidi è arrivata la variazione di bilancio. Il Consiglio regionale e le Commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi. Una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della Regione Toscana è il cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa ai fondi FEAS e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione e che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti, su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale che è quello della viabilità pubblica, attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali, soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Il commento io credo che debba essere rivolto più che alla Commissione a Bugliani e alla Giunta. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzione. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla Capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo, perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. Speriamo che non si verifichi più perché credo che una buona maggioranza funziona anche se c'è un'ottima opposizione e l'opposizione loro non la mettono in grado di poter lavorare. Il bilancio è importante, abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e defre, era doveroso perché i comuni aspettano risorse della regione, le imprese le aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna, tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate, adesso aver chiesto la candidatizzazione della variazione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori anche richieste che noi avevamo fatto, penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico delle università. È una soluzione assolutamente negativa, guardate lì dentro, dentro il documento economico e finanziario della regione toscana e nelle due proposte di legge che parlano della variazione di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore, non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della regione toscana, è una legge mancia, le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali, pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della regione toscana, mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra regione il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. La Toscana, secondo i dati della Banca d'Italia, è la prima regione in Italia ad essere stata duramente colpita. Abbiamo perso il 13,8% del nostro prodotto interno lordo e come si pensa di aiutare le imprese? Dando le mancette. Ecco, noi siamo contrari a questo modo di far politica, non è il modo di Forza Italia. Abbiamo sempre pensato che dobbiamo aiutare le imprese, perché aiutando le imprese si aiuta i lavoratori e le famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto misure di interventi strutturali per aiutare la nostra economia. Non certo dare qualche centinaia di migliaia di euro a chi non porta lavoro, a chi non porta economia. E poi non c'è una misura sostanziale, non ci sono le infrastrutture, non c'è nessuna parola sullo sviluppo dell'infrastruttura più importante del nostro territorio. L'aeroporto di Firenze, anzi in quel documento economico e finanziario della regione toscana, l'aeroporto di Firenze viene quasi declassato, non viene assolutamente menzionato. Ecco perché abbiamo portato un ordine del giorno all'attenzione del Consiglio regionale, che mi auguro tutte le forze politiche voteranno, che dice una cosa chiara, si vada avanti col nuovo aeroporto di Peretola, con la nuova pista in un sistema regionale di alleanze fra Pisa e Firenze. Perché se il sistema aeroportuale toscano non va avanti, la Toscana perderà e ne beneficerà soltanto Bologna. Convintamente contrari perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici, probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i Pets, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori straordinarie, in realtà ordinarie perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. Per la crisi è necessario riportare soldi alla sanità territoriale che abbiamo visto essere stata molto depotenziata in questo decennio, ma soprattutto una sanità che già a metà anno ha 400 milioni di debito, 400 milioni in meno che a questo punto non potranno essere utilizzati per rimpinguare il personale di cui invece hanno grande bisogno e hanno grande bisogno gli ospedali. In realtà più che negativa è quasi impossibile da valutare come notte di aggiornamento perché ci è arrivato due giorni fa con la preghiera di licenziarlo entro la pausa estiva dei lavori per motivi di massima urgenza e questo ovviamente una volta lo puoi concedere, basta che non diventi prassi, però diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nota di aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto parole al vento e anche malfatte, faccio un esempio su tutte, l'aspetto sanitario che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove, sulla sanità se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della regione toscana la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19, cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali, il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tranvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana che è una follia, è un'infrastruttura che a Firenze ha canterizzato la città per 11 anni per collegare ancora oggi un terzo di città, la vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. Cioè forse nel 2090 con questi ritmi avremo un sistema di collegamento. Quindi un documento che dice poco o niente e quindi il nostro voto sarà un voto molto politico, un voto contrario. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 23 voti favorevoli e 16 contrari il rendiconto generale per l'anno finanziario 2020. Sul tema è intervenuto il vicepresidente della Commissione Controllo, Andrea Pieroni. Il 2020 ovviamente è stato un anno segnato da una particolarità che è quella appunto della pandemia che ha determinato pesanti ripercussioni non solo sul versante della sanità ma anche su quello economico. È stato anche l'anno dell'avvicendamento, ci sono state le elezioni, si è passato da un'amministrazione ad un'altra. Ecco, ciò nonostante è la stessa Corte dei Conti a certificare che la Regione Toscana ha retto bene dal punto di vista finanziario. Un dato su tutti è quello del risultato di amministrazione che fotografa lo Stato di salute dal punto di vista finanziario appunto della Regione Toscana. Il dato è di un positivo per 97 milioni, un dato positivo che non si registrava da quasi 10 anni. Quindi è un elemento anche gratificante e rassicurante rispetto ad un equilibrio finanziario e un pareggio di bilancio che la Regione Toscana mantiene. Ma se vogliamo anche dare una sottolineatura politica a questo rendiconto, andando oltre anche i meri dati contabili e di bilancio, vorrei dire che questo è avvenuto mantenendo inalterata la pressione fiscale. Quindi i toscani non hanno anche per il 2020 sopportato aumenti di imposte e tasse. C'è stato un incremento degli investimenti, c'è stata un'attenzione sulla gestione anche delle principali partite, quella del personale, ad esempio, quella patrimoniale. E c'è anche un elemento positivo che è dato dalla tendenza che prosegue ad una gestione finanziaria che migliora di anno in anno i propri parametri. Quindi davvero un risultato soddisfacente, sebbene non manchino le difficoltà e le critiche. Il tema delle partecipate è stato sollevato anche dalla Corte dei Conti come un tema da monitorare, soprattutto sul versante di Fili Toscana e delle Terme di Montecatini. Ma su questo la nuova amministrazione, guidata dal Presidente Gianni, ha preso impegni per adottare le misure necessarie per ridurre i deficit e gli sbilanci di queste società. A margine dei lavori d'aula, il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli ha commentato la sfida per le suppletive al Collegio di Siena che vedono impegnati Enrico Letta per il centro-sinistra e Tommaso Marrochesi-Marsi per il centro-destra. Mi sembra che dopo le turbulenze iniziali ci sia invece un atteggiamento, che è un atteggiamento a mio avviso responsabile, spero di tutto il centro-sinistra, perché la partita che si gioca in quel Collegio è sicuramente una partita che riguarda quei territori con una candidatura autorevole in grado di rappresentare bene le problematiche e le stanze dei territori che sono ricompresi nel Collegio, ma è anche ovviamente una partita di una valenza nazionale che riguarda la compattezza e la tenuta del centro-sinistra per poter insieme respingere la candidatura di una destra che ovviamente in Parlamento come qui in Consiglio regionale spesso assume degli atteggiamenti e delle posizioni che non sono assolutamente in linea con i nostri valori e con le esigenze della Toscana e del Paese. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione, cronache e commenti torna la prossima settimana.